Con una coerenza granitica di Trenord non c'è stata pace per i pendolari neanche di domenica. Ad essere interessata è stata manco a dirlo la linea Mantua-Cremona-Milano. Il treno in partenza da Mantua alle 16.41 ha per esempio accumulato quasi un'ora e mezza di ritardo, 82 minuti per la precisione, prima di arrivare a Cremona, per poi essere definitivamente cancellato. Il motivo? Un guasto ad un altro treno, almeno stando alle spiegazioni fornite da Trenord per gli altri ritardi sulla direttrice. Il Milano Centrale dalle 19.15 è partito direttamente da Cremona alle 21.30 con l'azienda che ha invitato a prendere il convoglio successivo per recarsi da Milano Centrale a Mantua, ovvero quello delle 20.20. Ulteriori disagi si sono protratti per tutta la serata. Così, da questa mattina è in corso una raccolta firme per una petizione promossa dal PD per chiedere alla regione di sostituire Trenord e di progettare diverse soluzioni per il servizio ferroviario regionale. Tra le 6.30 e le 8.00, l'ora di punta per i pendolari, erano già tantissime le firme raccolte dai volontari, mentre per la cronaca, dopo i ritardi di oltre un'ora di ieri sera sul Mantova Cremona, anche stamattina è iniziata male, con ritardi in aumento di 15 minuti. Per chi volesse, si può firmare anche online su change.org con l'hashtag BastaTrenord.